Firenze Home Textile è la manifestazione rivolta a tutti i key player del mondo della casa e del settore arredo tessile, alla ricerca di un luogo di scambio e di incontro tra produttori e operatori qualificati. La fiera si svolge alla fortezza da basso e accoglie buyer, interior designer, concept store, negozi di arredamento, giornalisti, influencer, oltre che aziende produttrici. Finalmente ci siamo riuniti anche con Immagine Italia, quindi con l'Intimo e la Lingerie, per dare un'offerta più completa sia agli operatori ma anche agli espositori stessi. Abbiamo quest'anno una grandissima partecipazione da parte di delegati esteri, addirittura abbiamo 20 paesi in visita. Per quanto riguarda le aziende, devo dire che abbiamo l'eccellenza del tessuto, che va a partire dalle home collection fino anche al tendaggio, il tappeto. Abbiamo l'esclusiva di ogni singolo settore. La pandemia non ha frenato l'interesse verso i tessuti. L'essere costretti tra le mura domestiche durante i vari lockdown del passato ha fatto percepire l'abitare in modo diverso, con un occhio all'estetica. Purtroppo si sa in questo periodo, in questi anni, probabilmente un piccolo fermo sul mercato, lo sappiamo tutti. Però devo anche dire che forse si è anche rivalutata la casa, il fatto proprio anche di recuperare, di rinnovare l'ambiente in cui si sta, un ambiente domestico dove effettivamente alla fine eravamo quasi costretti a rimanere. Quindi in un certo senso, in un panorama generale, un po' di decadenza, noi abbiamo comunque resistito e anche attraverso le vendite online si è riuscito comunque a mantenere un livello molto alto.